Come siamo d'accordo, Pardoman? Quattro e mezza, a stazione. Oh, chi chiese chiese, chi non chiese resta a piedi, casi sui. Oh, chi che chiese, chi mi piace, chi? Allora, domandemoli a quei! Ma quello là mio conosco? Anche a massa l'ha reso? Quello che l'ha fatto tre volte a prima elementare? Si vede la faccia che il toto si sveggio, mi non ho mai passato, vengo a mandare la strada. Bravo, chissà che in dove ne fassi uno di buoni? Ciao figlio, cerchiamo più a più del decimo. Che sapessi, se qua che giremo come abiti, avanti in rio, avanti in rio, siamo di rio a scavare una busa. Voi non me l'accontate mica giusto? Pensate che sono imbattonito, ma io ho studiato. Guarda che te ne capivo mai, noi altri lo viviamo solo. E si dittori per il culo? Non si chiama piazza più decimo? Si dice più per? In alfabeto avevo due io, eh. Sono arrivato secondo. Fia, al mano, vieni qua, fagli vedere che non ci credono. Guarda. Visto? Carta canta, come diceva Marco. Tanta roba. L'università di Albania conferisce al signor Trotta... Trotta? Forte, vero? È stato il mio papà chiamarmi così, ho fatto anche le magliette. Conferisce al signor Trotta la laurea in foro anale. In poche parole ti salisci il famoso dottore del buso del cul. Vaffancul, vaffancul. Eh, sei un famoso? Va bene, dai. Dimmi dove è questa piazza più aperta. E allora... Un attimo, sto chiedendo. A chi? All'omino del cervello. È che mi tocca svegliarlo. E ora ascio a dormire, che è meglio se si arrangiamo, va. All'omino del cervello